Dopo il grido d'allarme lanciato nei giorni scorsi, in seguito alle novità annunciate da Poste Italiane, l'Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani torna a far sentire le sue ragioni. E lo fa per bocca del presidente della sezione Lombarda, Tiziano Maffezini, che denuncia una situazione ormai insostenibile per il nostro territorio. A scatenare la reazione dei rappresentanti locali, la decisione di Poste Italiane di procedere, nel corso dell'anno 2017, alla riduzione della consegna della corrispondenza in 2632 comuni in tutta Italia, provincia di Sondio e compresa. Con un notevole disservizio nei confronti degli utenti che si vedranno recapitare la posta, quindi a giorni alternati, ma anche in ritardo, visto che anche riuscire a smaltire tutta la posta che perviene nei vari uffici sicuramente non sarà facile. Una scelta che, secondo Uncem, avrà pesanti ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini, soprattutto in un territorio con peculiarità particolari come il nostro. Noi stiamo mobilitando tutti i sindaci dalla Valle, dalla Lombardia, ma anche d'Italia, affinché tutti assieme si possa approvare una mozione d'ordine che possa far rivedere questa scelta. Il Poste Italiano è in mano allo Stato italiano ed è 100% partecipato dallo Stato. Questo significa che anche lo Stato deve prestare attenzione a queste che sono le esigenze dei territori. e specialmente nei comuni piccoli, quelli di montagna, sui quali già grava il disagio di una posizione territorialmente non favorevole, sicuramente non è un servizio qualificante.